La parola fine sull'ATR Group di Colonnel arrivata con la firma del verbale di accordo sindacale di licenziamento collettivo, sottoscritto nella sede di Confindustria Teramo la presenza dei curatori fallimentari e dei segretari provinciali dei metalmeccanici di CGL e Cisle Will. Dunque i 64 dipendenti di una delle storiche aziende del cosiddetto Polo del Carbonio saranno mandati a casa ponendo fine a una serie di vicende sindacali giudiziarie. Volta a risollevare le sorti aziendali con vari passaggi di proprietà cercando di mantenere i livelli occupazionali che però si sono via via sottigliati fino all'azzeramento. In pratica la situazione prefigurata dai curatori è tale che non ci sono alternative al licenziamento collettivo delle maestranze che scatterà secondo la legge a partire dal prossimo mese di giugno. L'atto finale della vicenda ATR è partita la procedura di licenziamento collettivo 223 del 91 e 64 lavoratrici e lavoratori da giugno di fatto non avranno più la possibilità di sperare nella ripresa di quell'azienda che ha fatto anche la fortuna di un intero territorio di tutta la Valle Cupa di Colonnella e che anche ha fatto la ricchezza di un'intera provincia perché l'ATR è un'azienda che si è occupata di carbonio e fiore all'occhiello di tutto quel territorio e dunque attualmente non ci sarà più possibilità. Una vicenda che ha acceso la politica regionale con botte e risposta tra maggioranza e opposizione. È paradossale vedere che l'attenzione sull'ATR si accenda quando purtroppo le azioni sono finite, quando siamo effettivamente alla fine definitiva. Sarebbe stato bello, sarebbe stato speranzoso e ci avrebbe dato sicuramente fiducia sapere che tutta la politica si fosse interessata magari precedentemente all'avvio della procedura di licenziamento su questi lavoratrici e lavoratori. Sulla vicenda l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale ha annunciato della possibilità di alcune somme volte a incentivare la ricollocazione di chi non ha più il lavoro. Sicuramente ci sono dei fondi, sono quelli stanziati dalla legge di bilancio, ce ne sono diversi. Bisogna effettivamente capire, e noi riteniamo di no, se siano poi adattabili e utilizzabili dai lavoratori dell'ATR. Tra l'altro mi preme sottolineare che tutti i fondi e tutti i finanziamenti che sono stati dati alle imprese dal Covid in poi non hanno prodotto lavoro stabile, i contratti che sono saliti sono quelli a tempo determinato. Lavoratrici e lavoratori che hanno più di 50 anni ancora a tempo determinato ci fa capire che evidentemente non può essere questo il futuro. Sarebbe stato opportuno invece sì pensare a dei finanziamenti, pensare a delle opportunità che prendessero effettivamente in considerazione la situazione di quelle lavoratrici e di quei lavoratori e la situazione dell'ATR a cominciare per esempio dai finanziamenti sull'area di crisi complessa.